Il nostro studio si chiama Noto, io sono Marco Guazzini, mio collega è Zcasa Goto. Il nostro progetto si chiama FuaFua, è un tavolino. Il nostro concetto come studio parte dall'osservazione del dettaglio. Anche in questo progetto il dettaglio è significativo. FuaFua vuol dire in giapponese qualcosa di morbido, rappresenta la morbidezza. Era la nostra volontà di poter conferire al materiale Crystal Plant una sensazione di morbidezza, riferiti all'input del brief Touchable Emotions. La immagine di riferimento spesso noi ci basiamo come riferimento per lo sviluppo del concetto e delle situazioni. Quindi un'immagine di un bambino che mangia una nuvola di zucchero filato bianco. Quindi questa leggerezza, sensazione di morbidezza, è proprio il dettaglio che abbiamo voluto cogliere dal punto in cui il bastoncino di legno tocca la materia dello zucchero filato e la deforma. In corrispondenza delle gambe di FuaFua la materia si deforma e crea questa sorta di effetto di morbidezza. È stato un onore per noi ricevere questo premio e ringraziamo pertanto sia MDF che Crystal Plant. Grazie.